eccoci rientrati in diretta con il nostro super ospite il presidente senna presidente della commissione attività produttive turismo di regione lombardia veniamo un po a al nostro stampo di questa trasmissione presidente noi vogliamo trasmettere situazioni positive propositive proattive dare fiducia dare un po di speranza in un momento in cui oggettivamente c'è in giro tanta stanchezza anche queste norme che cambiano in continuazione sui questa cosa dei vaccinati non vaccinati il dentro il fuori le scuole la riapertura delle scuole i parametri che il governo messo la gente adesso comincia essere un po stanca che messaggio possiamo dare noi da regione lombardia di speranza dicevi prima in apertura che i dati sono più positivi di quelli che magari non siamo in grado di leggere bene anzitutto dovevamo c'era il rischio di andare in zona arancione questo è scongiurato da lunedì saremo ancora in zona gialla la lettura dei dati come curva dimostra che stiamo arrivando a quello che è il picco il saldo tra i positivi che ci sono adesso e quelli che c'erano la settimana scorsa è in netta diminuzione dunque si dovrebbe essere raggiunto quella che è il plafonno il picco e poi poco alla volta iniziare a diminuire le terapie intensive non aumentano più o se aumentano aumentano di poco e a volte vanno anche negativo parlo di regione lombardia siamo ancora sotto quella famosa soglia del 20 del 20 per cento e queste sono tutte notizie notizie positive a differenza di un anno fa dove avevamo appena iniziato a fare il processo di vaccinazione non dimentichiamoci che tutto il percorso che abbiamo fatto ci ha permesso facendo sicuramente degli errori perché il dono delle infallibilità non lo sia di comunque comunque rimanere aperti questo è un discorso piuttosto evidente ci ha permesso di avere molto meno ospedalizzati molto meno terapie intensive e molto meno decessi questo è il fattore molto importante poi sono d'accordo che purtroppo a livello di comunicazione c'è una confusione che non aiuta non aiuta una confusione in televisione troppi virologi che che parlano troppo troppi novax che ne dicono una che hanno letto una pagina un po più del libro premetto io credo molto nella scienza per carità ho molto rispetto anche chi come scelta ha deciso di non vaccinarsi sono contro gli obblighi ma in generale perché se sei un liberale lo devi essere sempre ma è evidente che se stiamo ragionando per non chiudere come probabilmente accadrà e siamo riusciti a rimanere aperto è perché la maggior parte dei lombardi il 93 per cento ha deciso con coscienza di fidarsi più di chi si occupa di queste cose della scienza piuttosto che di qualche appello su facebook su qualche social network questo ci tengo ci tengo profondamente profondamente dirlo dunque guardiamo il bicchiere mezzo pieno io sono un ottimista non sono di natura anche perché gli fa imprese solitamente è un po psicopatico ma deve essere sicuramente in questo paese può essere solo psicopatico ma deve essere sicuramente un ottimista per natura e non dimentico quando quando eravamo chiusi scollinando questo periodo qua credo che ci aspetti una primavera estate e presumo anche un attunno sicuramente sicuramente differente e per chi fa il mio lavoro e per chi lavora negli alberghi e per chi ha voglia di tornare alla vita è importante siamo tutti molto stanchi ricordiamoci che il fatto che si riempano le terapie intensive il fatto che gli ospedali si congestionino non è solo un problema legato al discorso dei decessi legati al covid è un problema che non ci permette di curare come dobbiamo i malati oncologici tutti quelli che devono fare delle interventi dunque bisogna avere un forte senso di responsabilità perché quando si vive in una collettività bisogna ragionare anche per le altre persone purtroppo noi abbiamo i dati di chi dei recessi per covid o dei danni per covid non è ancora quantificabile tutti i danni e i dati e i recessi legati a quelle persone che non hanno avuto la stessa situazione di cura che avrebbero avuto semplicemente nel 2019 e ricordiamoci che 150 mila italiani per dare l'esempio vengono per dare dei numeri vengono in regione lombardia tutti gli anni a farsi curare perché regione lombardia è un'eccellenza nazionale è un'eccellenza mondiale nel campo della sanità lo dice già marco senna che è un leghista sporco brutto cattivo ma organizzazione mondiale della sanità in certi settori siamo ai massimi livelli ai massimi livelli mondiali e purtroppo chiaro che con un'emergenza sanitaria di questa dimensione in corso non riesci a fare in pieno quello che è che è il tuo lavoro per quello che dico con forza a chi ha ancora dei dubbi che è meglio seguire il percorso della scienza che è quello degli apprendizi stregoni ok regione lombardia in questa diciamo onda anche di tensione emotiva psicologica e non solo ha preso di petto e ha modificato anche la legge sulla sulla sanità dando un'impronta più ai servizi territoriali o sbaglio chiaro c'è una premessa è da tenere in considerazione dal 2011 da lo sciagurato governo monti ci sono stati tagli a livello nazionale per la sanità di 37 miliardi di euro quota parte vuol dire qualcosa come 7 miliardi in regione lombardia più di tagli sono stati di o di aumenti che non ci sono stati che erano stati valutati prima dunque soldi che poi sono mancati sul sistema sanitario regione lombardia che a differenza di altre regioni abituata a tenere in conto in ordine ha comunque dovuto lavorare e fare una serie di tagli poi non ha più potuto fare assunzioni perché non sono diversi anni che chiediamo l'assunzione di 3.000 medici avendone anche le risorse nostre e questo c'era proibito dal governo centrale chiaro che se avessimo avuto più presidio di territorio più medici sarebbe andato in meno sarebbe andato più in sofferenza meno in sofferenza il sistema questa è la solita dimostrazione che se vai a risparmiare sulla sanità poi le cose le paghi e le paghi con il tornaconto siccome noi lombardia piuttosto che piangereci addosso siamo abituati a trovare delle soluzioni si è messo mano alla riforma sanitaria è stato fatto uno splendido lavoro una medicina che torna in maniera decisa sul territorio ci saranno finanziamenti i soldi arriveranno anche col pnnr dunque sono ragionamenti che si possono fare adesso l'abbiamo anticipato anche tutte le altre regioni lo possiamo fare perché ci sono anche le risorse perché sennò puoi anche inventarti tutte le riforme che vuoi ma se poi manca la benzina difficilmente difficilmente la macchina la macchina si ferma è chiaro che il sistema ha dimostrato dei limiti è chiaro che era impensabile di andare sotto pressione in questa maniera qua nessuno lo poteva prevedere è chiaro che sono stati fatti degli errori ma dopo che sono stati fatti degli errori come siamo abituati noi abbiamo corretto e sistemato e sistemato la macchina sia dal punto di vista dell'organizzazione delle vaccinazioni sia dal punto di vista ospedaliero adesso c'è una forte necessità di medici di base qualcuno ha cercato di attaccarci facendo finta di dimenticarsi che i medici di base le assunzioni spettano al ministero della salute e dunque non non alle regioni bisogna uscire da queste polemiche in questo momento scusa devo dirti che su questa cosa anche in trasmissione da noi è stato onesto anche il consigliere regionale scandella del pd dicendo che insomma non è che bisogna dare tutte le colpe alla regione su anche su questo tema ma che a livello centrale il tema dei 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 è importante mi sei ti sei girato e mi sei sparito come audio ecco vediamo se il presidente senna riesce a raddrizzare l'orizzonte e tornare e tornare tra noi ecco stiamo toccando temi di grande attualità perché i servizi ai cittadini sul territorio ecco vediamo se se ci senti fai un cenno è se mi senti fai un cenno tu per vederti noi ti vediamo e è fondamentale perché in questo momento regna la non chiarezza regna la confusione e quindi poterlo scusa perché ho avuto un'interruzione non ho sentito dopo scandella che è stato onesto ho perso perso il filo purtroppo ho qualche problema tecnico e lì diciamo che ho tappato il buco del problema tecnico quindi no ho detto appunto che consigliere candela diceva che a livello nazionale il tema dei medici di base è una responsabilità che non si può scaricare tutto sulla regione lombardia quindi in questo era stato un ascanale è ragazzo per bene su questo assolutamente non ce rubi poi io lo dico sempre ci sono alcune battaglie politiche che vanno fatte anche con contrapposizioni forte ed è giusto che l'opposizione faccia queste però poi in questo momento bisogna avere anche il buon senso la priorità devono essere lombardi a prescindere diciamo che non tutto il pd si è mossa in questa direzione ci sono stati alcune manifestazioni non ho timore a definire indegne dove si cercava di scaricare addirittura le morti sul governatore fontana quello che è accaduto in regione lombardia se fosse accaduto in qualche altra regione apri di cielo non si è tenuto in considerazione della conformazione della regione della quantità di abitanti che abitano su milano provincia e tutto l'indotto che c'è dietro paragonabile solo ai grossi centri urbani come new york londra si è fatta troppa politica di speculazione non tutti sono scandella nella dimostrazione bisogna avere anche il coraggio di dire dove ci sono le responsabilità dall'altra parte questo non vuol dire che non sono stati fatti errori è per carità di dio ma credo che come ha reagito regione lombardia in poche altre strutture poche altre regioni sarebbero stati in grado di fare altrettanto hanno cercato anche di migliorare quella figura si la figura del presidente fontana e adesso si sta come succede spesso archiviando tutto e anche lì la dimostrazione che l'utilizzo politico della magistratura è qualcosa che spero che un giorno non ci sarà più in questo paese confronto duro politico ma duro e corretto all'interno di quello che sono le regole del gioco se si crede di fare speculazione sulle vittime o cercare di utilizzare qualche avviso di garanzia per fare politica questo non fa bene al paese non fa bene la regione lombardia e la dimostrazione poi è perdita di tempo di di danari e archiviazioni a raffica non era una andiamo un po non dico verso la conclusione due tre domande e poi ti ringrazieremo della disponibilità che ci hai dato una domanda qual è il marchio qual è il timbro in questa in questa in questo momento leghista all'interno della gestione di regione lombardia 15 questo momento la lega sta incidendo su questa cosa sta portando a casa questo risultato ci sono due due linee no che sono state anche ampiamente descritte durante questa trasmissione la riforma sanitaria è chiaro evidente che c'è nella necessità che ricordiamo lo si può fare un percorso che è iniziato perché ci sono le risorse per poterlo fare e poi quei passaggi che abbiamo parlato all'inizio che solo la nostra regione è stata in grado di farlo perché ha veramente ha chiuso anche quest'anno con i conti in ordine e nel bilancio ha trovato degli altri danari per fare investimenti sul territorio ma 4 miliardi e mezzo che sono stati investiti solo da regione lombardia sul territorio sono quei denari che stanno spingendo fuori da questa crisi con tassi di crescita che era tempo che non si vedevano la nostra regione e tirando fuori la nostra regione ricordiamoci che siamo la locomotiva del paese chi scommette contro la lombardia scommette contro il paese qualcuno ci ha provato hanno perso la scommessa siamo usciti stiamo uscendo lo stiamo facendo in maniera più forte di prima il più importante il pil il più importante sul pil nasce da questa spinta e da questa grande regione bisogna far ripartire l'export ricordiamoci a tutti perché non bisogna mai dimenticarlo che abbiamo 54 miliardi di residuo fiscale che non ha pari con con altre regioni a 18 il l'emilia 12 il veneto stiamo parlando di di altri tipi di campionato nonostante questo grosso residuo fiscale rimane di gran lunga la regione traino e questo non accade per caso è ripartita quindi allora la battaglia per l'autonomia la partita con l'autonomia deve ritornare al centro deve tornare al centro per il semplice fatto che più centri di spesa si avvicinano al cittadino io rimango un autonomista un federalista convinto più sono controllabili e più chi dimostra di essere virtuoso non lo dico io lo dice la costituzione al titolo quinto ha diritto di avere queste competenze è chiaro che ci sono delle resistenze forti io lo dico sempre autonomia non vuol dire egoismo perché di quei 54 miliardi una parte vanno in ridistribuzione e nessuno vuole toccare quella parte la metà più o meno sono competenze che lo stato centrale fa per regione lombardia noi siamo in grado di poter gestire queste competenze su queste efficientare fare dei risparmi e risparmi investirli per i cittadini lombardi senza togliere un centesimo agli altri io penso che questa deve essere una battaglia che va fatta in maniera bipartisan e tutti quelli che si occupano di politica e regione lombardia lo devono fare ma ognuno in ogni regione perché poi alla fine è quello la vera svolta per il paese naturalmente ci sono alcune regioni che hanno più maturità per poterlo fare già da subito e altre che seda dovranno prendere col tempo però mi sembra un processo di buon senso ecco andando un po verso la chiusura perché presidente senna sappiamo che hai l'agenda un po fitta quindi cerchiamo di stringere un attimo noi è stata col mattarello a casa peggio c'è la fidanzata col mattarello a casa perché sai che il mattarello va usato per fare la pasta in casa al nostro presidente no e dicevo una domanda una curiosità io non sono riuscito a seguire alcuni passaggi legati alle amministrative secondo te perché abbiamo per perché il centrodestra non è riuscito a conquistare milano ma è un ragionamento piuttosto piuttosto complesso è chiaro che c'è una tendenza non solo nazionale ma anche internazionale sui centri e le periferie c'è da fare probabilmente il nostro messaggio non è passato probabilmente un problema di sicurezza diffusa una città come milano è sentito meno di quello che noi percepivamo e bisogna riportare al centro la capacità di comunicare anche con certe aree della città questo assolutamente non c'è dubbio non ha giocato a nostro favore i grossi veti che ci sono stati sui candidati siamo arrivati a scegliere sul finale luca bernardo che ci ha messo tantissimo impegno ma non era vezzo alle battaglie politiche non ha avuto neanche il tempo per farsi conoscere ricordiamoci che purtroppo se si è poco valutato questo aspetto ha votato il 48 per cento dei milanesi dunque non è che il centrodestra ha votato per sala non siamo stati in grado di convincere gli elettori tradizionali nostri ad andare alle urne questo è un dato di fatto oggettivo vi do dei dati hanno votato 490 mila milanesi l'ultima la seconda giunta albertini venne votata albertini venne votato da 490 mila milanesi cioè tutti quelli che hanno votato per il centrodestra e centrosinistra nel 2000 così era no adesso non mi dimentico la data votarono per albertini ai tempi votavano 790 mila milanesi qualcosa del genere questo giro hanno votato 490 mila c'è da porsi una grossa domanda non è magari è venuta un po meno più che la capacità di comunicare le proprie idee il proprio messaggio è venuta un po meno la capacità di ascoltare i bisogni reali è chiaro è chiaro che è un mix di di quello che di quello che giustamente stai dicendo dunque l'analisi bisogna bisogna iniziarla da lì bisogna capire quali sono le esigenze bisogna capire qual è la strada da percorrere perché cinque anni possono sembrare tanti ma bisogna iniziare a costruire un progetto alternativo un progetto alternativo perché la città non è stata data in mano a sala non è stata data in mano a nessuno per quello che riguarda il centrodestra vuol dire che una persona su quattro di quelli che tu incontri camminando per milano ha votato sala che ha tutti i diritti e io non sto dicendo questa è la democrazia la democrazia vince chi ha un votante in più di quelli che sono andati a votare un voto in più dei votanti e lui ha avuto parecchi voti in più di quelli che sono andati a votare però una grossa parte di città ha deciso di non esprimersi dunque questo è un demerito nostro che non siamo stati in grado di intercettarlo non è sicuramente un merito di sala che non è stato in grado di di recuperarli perché come come sindaco io una domanda me la porrei se un milanese su due non è andato a votare e un milanese su quattro è deciso di votarmi perché vuol dire che ce ne sono tre che non mi riconosco che non mi riconosco poi la democrazia funziona così ed è giusto che governi ecco una una domanda adesso siamo un po in chiusura del nostro incontro e vedremo più avanti magari di farne ancora uno insomma magari di venirti anche a trovare in sede una domanda che è più uno stimolo noi chiediamo sempre ai nostri ospiti prima di chiudere la trasmissione qual è un loro sogno personale e un loro sogno professionale o politico perché senza sogni non si batte cassa senza sogni non sia visione senza sogni non si progetta ok qual è un sogno politico di gian marco se ne è un sogno personale gian marco se ne è il sogno politico è che alla fine del mio percorso politico io non nella mia vita ho fatto diverse strade sono ho bisogno di essere di avere di stimoli per per potermi svegliare la mattina posso lavorare 20 ore al giorno se non ce li ho mi rendo conto che devo cambiare strada il mio sogno politico è quello un domani di avere una lombardia fortemente autonoma questo è qualcosa alla quale ci tengo ci tengo molto perché sono convinto che che l'autonomia sia la chiave di volta per emancipare questo paese tutto ok la razionalizzazione della spesa il controllo i cittadini che votano qualcuno che sanno che riporta a casa dei risultati e credo che il fatto che nelle regioni si possa ancora scegliere sulla preferenza sia molto molto positivo a differenza di roma dove sono tutti cooptati da dalle segreterie dei partiti il mio sogno personale è molto semplice di tutti il futuro tutti gli anni che che mi separano ancora di dal punto di vista professionale da qua all'andare in pensione forse non ci andrò neanche mai di svegliarmi tutte le mattine e di fare qualcosa che mi fa venire la voglia di svegliarmi e di farlo con gioia fino adesso nella mia vita a volte cambiando e facendo anche delle scelte radicali e a volte facendo dei passi indietro è stato così in qualsiasi in qualsiasi momento che ho passato degli anni precedenti a volte cambiando anche la tipologia di lavoro dunque spero di avere questa fortuna di poter scegliere di fare quello che mi piace una questione economica è secondaria certo è importante ma la questione principale è svegliarsi la mattina e non andare a lavorare per il semplice fatto che quello che stai facendo è una questione è qualcosa che ti appassiona talmente tanto che non lo considero un lavoro questa per me è il senso della vita poi bene un augurio se tu avessi davanti adesso quell'imprenditrice che ho citato prima che auguro gli potresti fare per questo 2022 allora io sono convinto che se uno ha il talento non ha bisogno di scorciatoie non ha bisogno di quota rosa non ha bisogno del fatto che ci siano degli incentivi se ha più o meno 35 anni cose che servono io non voglio dire che non sono cose che servono però se uno è un imprenditore vero e c'ha genialità può partire anche con condizioni di svantaggio dunque e con la determinazione arriva al risultato non ci sono molti segreti gli anglosassoni parlano 1% inspiration 99% transpiration detto in parole povere l'1% di ispirazione il 99% è sudore lavorando con determinazione lavorando con forza e con voglia e non scoraggiandosi perché poi sappiamo che il lavoro come la vita è fatta di alti bassi chi regge di più e chi tiene più duro alla fine al risultato ci arriva si arriva al risultato poi tutto quello che viene da regione lombardia da dai comuni dalle condizioni politiche che si creano dal pnn ben venga però di non fare impresa perché c'è uno sgravio fiscale o perché c'è un'opportunità di un bando quello è un di più fare impresa perché sia l'ispirazione perché sia la voglia perché ci si vuole sacrificare e soprattutto questo lo dico sempre farlo perché piace quello che si sta facendo poi veramente anche la la situazione economica troverà un suo percorso ma se si fa impresa perché si pensa che si può guadagnare qualche cosina in più secondo me non è quella la strada questa è l'unico consiglio che mi sento di dare da uno che comunque impresa l'ha fatta per tanti anni la farà ancora bene precedente siamo in chiusura davvero grazie della del tempo degli stimoli perché nell'ascoltarti è passato uno che un po di anche esperienza politica ce l'ha alle spalle però è passato davvero il timbro di un imprenditore il timbro di un uomo del fare di nuovo della concretezza quindi ti ringraziamo della disponibilità e ci prendiamo l'impegno di venirci a trovare per quell'occasione mi farò crescere anch'io la barba così saremo è strano che ce l'ho di solito la faccio crescere poco la prossima volta mi allineo con te così facciamo i gemelli diversi ok grazie grazie tutti i nostri telespettatori le nostre telespettatrici l'appuntamento la prossima settimana e vi comunicheremo delle novità importanti per l'ultima settimana di gennaio in cui c'è una cosa molto importante a livello nazionale che sappiamo bene tutti grazie ancora presidente grazie a voi tutti e buona sera e arrivederci grazie 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 a tutti 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 grazie a tutti